Salve a tutti da GTAQ, si da bentornati, anzi mal tornati a un episodio di GTA SA 6 stelle Allora, per essere la missione che devo fare oggi Non comporterà problema con gli sbirri Almeno per quanto riguarda la missione in sé Però devo arrivare sempre con 6 stelle Quindi magari oggi non bestemmi Sarebbe veramente bello Se oggi non mi incazzo, guarda Sarebbe davvero fantastico Così magari riusciamo a fare almeno una missione senza incazzarci come una bestia Ok, siamo arrivati tranquilli, tranquilli Dedananta Vabbè, saltiamo il cuchin E spariamo, zè Zè Ah, c'è anche l'audio della musica purtroppo sotto fondo Che potrebbe rompere le palle Quindi qui sto togliendo l'audio del gioco momentaneamente Altrimenti Rompono le palle con i copyright Muori RPG, RPG Ora mettiamo di nuovo l'audio Ok Rompono le palle Ok Ok Ok. Crepa male. Crepa proprio male. In teoria c'è un metodo per fare questa missione proprio veloce. Vediamo se ci riesco. Vediamo un po'. Dovrei riuscirci. Sali si c'è il Cristo Santo. Dai. Cagamento di palle. Andiamo dai. Facciamo il metodo abusivissimo. Sono morto vero? Sono morto. Che metodo di merda. Oddio. Perché sono morto così velocemente? In teoria si dovrebbe riuscire ad arrivare correndo. In teoria. Diciamo che sto ozzo non ho voluto. Cioè sono morto quasi come un coglione. Perché potevo farla normalmente come so questa missione. Vabbè. Vabbè. Cosa? Un super cop? Un super cop? Un ultra cop? Un ultra cop? Un ultra cop? Oh mio Dio. E meno male che questo deve essere uno di quei video tranquilli. Non c'è niente. Wow. 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 Ok. Gli ultra cop in me non erano mai capitati in GTA 6 stelle. Mi erano capitati nella live ma mai GTA 6 stelle. Vabbè. C'è sempre una prima. Come si dice. Cristo. Non è possibile. Un ultra cop? Wow. Non fai mai la casa va. Ma si. Se casalmente dovessi morire di nuovo c'è già la casa qui. Carico subito il salvataggio. E dai eh. Fammi uscire. Bastardo di merda! Schifoso! Ok. Sono morto mentre... Wow. Wow. Cioè sono morto mentre comprava la casa e il gioco si è chiuso solo. Cioè io giuro che non la taglio questa parte. Voglio farvi vedere che per quanto la missione sia facile gli dèi si stanno mettendo contro per non farmela fare. Ma che cazzo sta succedendo? Questa dovrebbe essere... Vabbè che... Ok. La prima volta ci poteva stare perché ho fatto il coglione e io... E vabbè ci poteva pure stare. L'ho esagerata io. No. Volevo andare a piedi correndo senza... Fare la missione per bene. Giusto per cazzeggiare. E poi ci può stare e posso morire. Ma... Le volte successive guarda. Il super cop... Lasciamo stare. E poi... Qui... Io che compro la casa mentre muoio e il gioco si impalla e si chiude solo. Giuro. Si è chiuso solo. Io non ho tenuto niente. Si è chiuso da solo. Roba allucinante. Io spero che la sto registrando questa parte qua. Perché... No. Voglio essere pure sicuro guarda. Ok. Si. Sto registrando. No. Perché sta succedendo dell'impossibile. Guarda. Lascio che torno. No. Guarda. Perché... Queste cose non me le posso proprio perdere. Si. Fatemi esplodere in tua macchina. Mi raccomando. E che cazzo però. Si. Vabbè. Ora non c'è più un cazzo. Dai però. Dai. E dagli. Ah. Questa parte la salterei io. A sto punto. E cazzo. Io voglio... Vi voglio dire che... Voglio provare di nuovo a fare quella cosa. Vaffanculo va. Perché so che si può fa' Io so che si può arrivare là giù. Senza morire. Lo so che si può fare. E infatti ci sono arrivato. E che cazzo. Io sapevo che si può fa' Certo. Ora qui. Per fare un po' di attenzione. Non mi uccidere. Non mi uccidere. Ah. E dai. Ok. Ok. Ora è... La classica missione di merda. Quindi... Posso fare a meno pure di... Di farvelo vedere. Ok. Sono arrivato dall'altra parte della nave. Ora devo solo liberare sti stronzi. Ok. Oh mio Dio. Questo video doveva essere... Cioè. Una passeggiata. Invece... Sta rivelando proprio... Adatto ancora per i... Per gli highlights delle live. Per i fail. Guarda. Sta proprio rivelando... Rivelando proprio adatto. Comunque raga. Ho deciso... Che probabilmente oggi ricomincio a fare la mia storyline. La continuo. Quindi è probabile che... Entro pochi giorni... Esca fuori la mia storyline. Dovrò vedere quanto la voglio allungare. Perché avevo detto che la facevo molto corta. Ma potrei farla un po' più lunga. Di quello che credevo. Quindi... Dobbiamo vedere un po' quello. Quindi sì. È da tanto che non facevo missioni di Dio. E ne farò qualcuna pure io. Crepa. Ho di nuovo... Ogni volta che incomincio un cult c'è no 6 stelle poi. Repa. Torna dai profughi. Un panculo CJ. E dai. Dai CJ così mi... Mi deludi. Grazie per tutto. Grazie per tutto. Bene. Come cazzo vi permettete. Come cazzo credete che possa fare una cosa del genere? Forse riusciamo a prendere un carrammato. Posso pure crederci. Se riusciamo a prendere un carrammato. Dove cazzo è sceso? Sono il figlio di pittà. Da dietro. Si è spaventato dietro. Roba allucinante. Splodi. Vado a abbassare un attimo. Gli effetti sono troppo alti. Andiamo a salvare vai. Andiamo a salvare. Altrimenti qui... Ci commiamo a X. Almeno una missione abbiamo fatta in questo video. Ok. E credo che a GTA 6 stelle... Avevo fatto le tre missioni di Gizzy. Però mi manca quella Outrider. E Snail Trail. Quindi devo recuperare il salvataggio. E fare quelle due missioni. Outrider e Snail Trail. Me la devo ricordare per il prossimo video. Vediamo se nel prossimo video riesco a fare le tutte e due. Sia Outrider che Snail Trail. Che tra l'altro... Mi pare che Outrider... Va fatta senza stelle. Quindi è proprio una cazzata. E Snail Trail invece va fatta con le stelle. Quella non so come cazzo farò a farla. O forse vanno tolte per forza le stelle in Snail Trail. Altrimenti non si può fare la missione. Quindi... Le prossime due missioni forse sono proprio una cazzata. Perché sono entrambe senza stelle. Nel senso che... Una delle due è proprio senza stelle. Cioè... Nella missione vengono tolte. E l'altra mi sa che va attivata. E può essere fatta solo se non hai le stelle. Quindi devo toglierle per forza. Quindi le prossime due missioni saranno... Forse le potrei pure saltare. Fatemi sapere nei commenti se voi volete che io salti le due missioni. Visto che vanno fatte senza stelle. O volete che le faccio comunque. Va bene raga. E niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate. Mettete un piaccio. Iscrivetevi. E ci vediamo alla prossima. Ciao.